Tutta la tradizione dei balli della ex Yugoslavia e poi le danze tipiche della regione centro-occidentale dell'India. È stata una serata di folklore e musica, quella che il Festival Internazionale dei Giovani, organizzato da Carlo Devoti, ha portato mercoledì sera in Piazza Cavalli con due gruppi, uno proveniente da Sarajevo e l'altro da Mumbai. Misericordia e Olimpismo per la Pace è il tema della 33esima edizione del Festival. Due pratiche, la prima in ossequio all'anno giubilare in corso, la seconda per celebrare Rio 2016, che in modi differenti manifestano l'attitudine dell'uomo a rapportarsi nella società con armonia e concordia. Orgogliosi di esibirsi nel cuore della città, i due gruppi sono andati oltre le appartenenze ai propri credi religiosi, facendo conoscere agli spettatori della piazza danze e balli di altre zone dei loro paesi di origine, in onore appunto della pace tra i popoli. Prossima serata, martedì 28 giugno, in occasione delle celebrazioni del Santo Patrono di Piacenza, in Piazza Sant'Antonino, dove oltre a India e Bosnia si esibirà anche un gruppo turco. Grazie a tutti.